Avola, ladro di profumi cosmetici entra in farmacia ma viene arrestato dai carabinieri. Un pregiudicato di 41 anni, Avolese, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. Ieri l'uomo, fingendosi un normale cliente, è entrato in una nota farmacia del centro urbano e si è avvicinato al reparto dei cosmetici e dopo essersi guardato bene intorno, convinto di passare inosservata, ha prelevato dal banco di esposizione alcuni profumi e creme di marchi prestigiosi li ha riposti in una borsa schermata che portava a seguito. Successivamente, sempre con lo stesso atteggiamento indifferente, si è diretto verso l'uscita senza passare per le casse. L'insana condotta però non è passata inosservata un addetto alla vigilanza che ha chiamato i carabinieri. Quando i militari sono giunti sul posto hanno arrestato il ladruncolo. La rifurtiva per un valore complessivo di circa 300 euro è stata restituita alla vente a diritto e l'uomo, dopo le formalità di diritto, è stato posto ai domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria Aretosea.